Sono gravemente indiziate a vario titolo di associazione a delinquere dedita alla commissione di più delitti di furto pluriaggravato e furto in abitazione, ricertazione, simulazione di reato e falsità materiale. Questa mattina all'esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla procura della Repubblica di Benevento, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale nei confronti di otto persone, sottoposte rispettivamente sei alla custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari. La complessa attività di indagine avrebbe consentito di acquisire significativi e convergenti elementi indiziari nei confronti di un sodalizio criminale composto da stranieri provenienti da campi rom di Giuliano in Campania e Napoli Secondigliano che avrebbero commesso materialmente i delitti introducendosi furtivamente in bar, tabacchi, esercizi commerciali e abitazioni utilizzando per l'occasione veicoli intestati fittiziamente a terzi sui quali venivano collocate targhe alterate o precedentemente asportate da altri veicoli.